Ben trovati alla nostra rubrica di approfondimento Il Fatto. Quest'oggi parleremo di un gradito ritorno dopo il Covid dal 2019. Infatti non si è svolta la Fiera dell'Agricoltura ad anno che torna quest'anno per la 42esima edizione. Un evento atteso e importante grazie al Comune di Alanno con l'Istituto Tecnico Agrario. I giorni sono 6, 7 e 8 ottobre. Un programma nutrito tra convegne e altro. Ne parleremo con i nostri gentili ospiti di studio. Allora inizierei dal sindaco di Alanno Oscar Pezzi. Bentrovato sindaco. Buongiorno. E poi Maria Teresa Marsili, dirigente scolastica dell'Istituto Omnicoprensivo di Alanno. Bentrovata. Buongiorno. E Matteo Monago che è la presidente Fiera dell'Agricoltura di Alanno. Bentrovato anche a lei. Buongiorno. Iniziamo dal sindaco Oscar Pezzi per parlare di questo ritorno atteso dopo la pausa per il Covid. Una fiera capace di attirare diverse persone non solo di Alanno della città ma anche del comprensorio e oltre. Novità di quest'anno? Sì, parte le novità ma veramente dopo tre anni è stato un po' difficile organizzarci a causa purtroppo del Covid. Ricordo che l'ultima edizione è stato un successo enorme. Abbiamo avuto 7, 6, 7 mila presenze e quindi veramente tantissimi cittadini del tutto l'interlandalannese ma anche di fuori province che ci sono venuti a trovare. E quest'anno ripartiamo con la stessa volontà, con la stessa entusiasmo di fare meglio probabilmente. Di fare meglio cercando di ampliare i settori espositivi, in modo particolare quello che riguarda l'agricoltura. Quindi è un settore diciamo di macchine agricole. E ricordiamo anche che il nostro territorio è un territorio particolarmente agricolo e che sta andando sulle culture specializzate viticoltura nella nostra zona. E' vero che poi l'istituto sta facendo anche qualche corso in particolare sulla viticoltura. E cercheremo veramente di fare tanto, tanto, tanto. Abbiamo qualche novità, abbiamo messo qualche settore merceologico nuovo, sperando che avrà successo come negli anni scorsi. Si parlerà anche di agricoltura verde immagino. Sì, cultura verde, ma anche di biologico, molto biologico. Sta tanto di moda il biologico, noi stiamo seguendo, il territorio sta seguendo il biologico, le culture specializzate stanno andando su biologico. E mi auguro che anche la scuola faccia qualche corso specifico per gli studenti che riguarda il biologico. Dunque 6, 7, 8, il 7 ottobre ci sarà l'inaugurazione della fiera alle 9.30? Sì, sì, l'inaugurazione sarà il 7 ottobre alle 9.30. Inizieremo con dei convegni che andranno avanti tutta la giornata del 7 e qualcosa anche forse domenica, quindi domenica l'8. E allora io vorrei far interagire con noi la professoressa Maria Teresa Marsilli, che è dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo di Alanno, un istituto storico dove vengono a studiare in tanti. Qual è il contributo che la scuola dà anche quest'anno alla fiera? Allora, il contributo che la scuola dà quest'anno alla fiera, come negli anni passati, è un contributo significativo. Io sono contenta, insomma, di poter ritornare con questa 42esima fiera, come diceva il sindaco e come diceva anche lei in introduzione, dopo il periodo della sospensione dovuta al Covid. E in realtà torniamo e torniamo esattamente come avveniva molti anni or sono, quando era esclusivamente la scuola a promuovere l'iniziativa della fiera e a gestirla interamente da parte degli studenti e la fiera avveniva in ottobre. Adesso, diciamo, il periodo è sempre stato spostato in primavera. Quest'anno, vista le condizioni, diciamo, del tempo, le condizioni climatiche, abbiamo deciso di riportarle ad ottobre, esattamente come accadeva un tempo. La scuola ha un aspetto importante nell'organizzazione, nell'organizzazione dei convegni che in realtà hanno già un'anteprima in data 5 ottobre con l'apertura dedicata alla forestazione e alla tartuficoltura e proprio per aprire il discorso, diciamo, su una tematica di interesse generale sullo stesso territorio. Ci saranno poi convegni di spiccato interesse che vedono in qualche modo la risposta della scienza e quindi anche della scuola con la conoscenza e con la formazione degli studenti a quelle che sono le problematiche climatologiche fondamentali. Vediamo che il clima cambia, i periodi della primavera e dell'autunno si restringono di fatto, gli eventi climatici improvvisi come alluvioni e inondazioni sono frequenti, le temperature molto alte determinano delle problematiche proprio sulle produzioni e quindi noi dobbiamo formare i nostri studenti per metterli nelle condizioni di saper gestire il campo sia sul campo ma sia anche attraverso delle strumentazioni diverse e innovative. Si parlerà infatti di smart farming e di vertical farming per esempio, si parlerà del problema della peronospora che purtroppo quest'anno ha creato notevoli problemi a livello dei vigneti, delle produzioni in tutta Italia e in modo particolare anche in Abruzzo, per cui ci saranno temi di estremo interesse. Tra l'altro mi preme anche dire che l'apertura della fiera nel periodo ecco così anticipato rispetto al solito ad ottobre vuole essere un'opportunità per tutti i visitatori che avranno modo di girare tra gli stand e i padiglioni ma anche di entrare a scuola, di trovare tutti i laboratori completamente aperti a disposizione quindi di coloro che vorranno visitarli e sarà l'occasione per aprire tutto il processo di orientamento che la scuola superiore fa rivolgendosi ai ragazzi di scuola secondaria di primo grado. Cioè i ragazzi che tra breve dovranno effettuare la scelta per il percorso scolastico futuro e quindi avranno possibilità di vedere, di visitare l'istituto, di fare dei piccoli esperimenti alla presenza e alla guida come tutor degli studenti più grandi del quarto e del quinto anno. Per cui l'invito è rivolto anche a questo target di ragazzi, alle famiglie, perché con l'occasione di una passeggiata possano comunque visitare la scuola. Devo dire che ci sono anche delle novità. Lo spazio che la pandemia purtroppo comunque ha determinato, ha accelerato dei processi anche di conoscenza e di riorganizzazione tecnologica. Grazie ad alcuni fondi PON messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e oltre che ai fondi per il PNRR, la scuola si sta dotando di attrezzature particolari per innovando proprio quelle che sono le produzioni e le applicazioni che attraverso delle app, dei satelliti o delle modalità nuove di fare agricoltura vengono comunque presentate. Si parlerà di Agricoltura 4.0. Abbiamo acquistato, oltre che a dei mezzi tecnici importanti, anche un simulatore di guida per esempio, quindi un trattore che avranno modo di utilizzare i ragazzi dentro la scuola e che andrà a simulare il lavoro in campo, andrà a delimitare lo spazio confinato dell'ambiente dove si ipotizza di effettuare le lavorazioni con un terreno variabile, quindi più o meno accidentato, pianeggiante, con la possibilità di ipotizzare una semina piuttosto che altre tipologie di coltivazioni. E quindi i ragazzi avranno la possibilità di mettere in pratica una parte di lavoro che poi magari andranno a fare successivamente al di fuori della scuola quando saranno maggiorenni e quando insomma avranno terminato il loro percorso di studi. Non svegliamo di più così, insomma i telespettatori saranno invogliati a venire. Presidente Monaco, cosa aggiungere? Io credo ci sia tanto entusiasmo per il ritorno di questa storica fiera. Sicuramente, è una fiera che negli anni ad all'anno ha sempre portato tanto e all'Istituto Agrario ha sempre dato tanto per il territorio ma anche per la stessa scuola. Io sono ex studente quindi per me è un grande onore essere Presidente della Fiera dell'Agricoltura e un appuntamento a cui non poter rinunciare. La scuola è il cuore pulsante di questa fiera in quanto già all'interno occupa, ha ospitato tanti stand e tra questi stand la Preside ricordava tutti gli stand che andranno a descrivere il mondo dell'agricoltura, come si è sviluppato ma anche la storicità del settore agricolo. Puntiamo ad avere quest'anno quasi un centinaio di stand tra il mondo zootecnico, quello tecnico agroalimentare e sicuramente saranno tutti molto contenti e felici di visitare la nostra fiera. Abbiamo cinque minuti, allora facciamo un nuovo giro di tavolo, chiediamo al sindaco perché i telespettatori dovrebbero venire alla fiera di Alanno? Ricordiamo 6, 7, 8 ottobre, fiera dell'agricoltura dalle varie societature. Sì, innanzitutto perché è caso anche di visitare Alanno che da tanto, anche culturalmente, abbiamo qualcosa da far vedere ma anche perché, come diceva la Preside, abbiamo questo istituto che per noi è vitale anche per l'economia del Paese. E poi credo che sia una scuola oggi veramente a portata dell'attualità di oggi, in quanto si va verso questo mondo agricolo, si deve tornare verso questo mondo agricolo e credo che gli studenti non debbano più tutti andare verso i licei ma debbano tornare un attimo verso gli studi tecnici che è il futuro per il lavoro, che è importante per il lavoro e poi l'agricoltura, leggevo notizia qualche giorno fa sul Sole 24 Ore che anche il Ministero sta puntando sulle scuole degli istituti tecnici agrari. Quindi invito sinceramente a visitare questo istituto, portare unitamente alle famiglie, venire con i ragazzi per far vedere questa scuola sperando che sarà il futuro veramente della nostra Italia. Anche perché Preside si trova spesso a lavoro con gli istituti tecnici? Sì, allora l'istituto tecnico agrario dà una formazione veramente completa agli studenti e li mette nelle condizioni di poter affrontare con serenità i percorsi universitari laddove ci fosse questa tipologia di scelta, tant'è che i nostri studenti riescono a laurearsi in tempi abbastanza rapidi e poi a trovare lavoro, ma coloro che volessero impegnarsi nel mondo del lavoro subito dopo il diploma hanno una vasta gamma di possibilità e di opportunità. c'è da dire una cosa, che forse c'è carenza nel mondo dell'agricoltura, per cui le porte sono veramente spalancate a tutti coloro che volessero impegnarsi in questo settore, coniugando la tradizione con l'innovazione, perché è questa la marcia in più che questa tipologia di scuola ha e riuscendo quindi a formare in maniera completa gli studenti. Presidente, o meglio Presidente, vogliamo, non so, sarà un augurio per qualche scuola in futuro, ma lei è Presidente adesso della Fiera dell'Agricoltura e Presidente Matteo Monaco, ci tengo a ribadire la Preside dell'Istituto Omnicomprensivo di Alanno e Maria Teresa Marsili, che ci ha fatto un quadro molto esaustivo della scuola, invece al Presidente dell'Ente Fiera dell'Agricoltura di Alanno vorrei far ricordare le date e quando venire in fiera. Allora, le date sono il 6, 7 e 8 ottobre ad Alanno e partiremo subito con il 6 ottobre dove ci sarà una piccola presentazione e il 7 ottobre invece alle 9.30 di mattina inaugureremo la fiera. Vogliamo aggiungere qualche altra cosa? Io sì, vorrei ribadire che in realtà c'è un incontro pre-fiera il giorno 5 con forestazione e tartuficoltura, scusatemi, e poi ci saranno i giorni di convegno, già il venerdì 6 e il 7 l'inaugurazione con una serie di convegni nella stessa giornata e anche nella giornata successiva di domenica, compresi i pomeriggi di sabato e di domenica. La scuola è aperta, gli stand sono aperti, quindi vi aspettiamo. Beh, un in bocca al lupo va a tutti voi perché insomma c'è questa ripresa dopo il Covid di questa storica fiera di Alanno, 42esima edizione, un modo come diceva il sindaco Pezzi, non solo di visitare la fiera ma di visitare l'intero centro. Allora ringraziamo il sindaco di Alanno Oscar Pezzi, la dirigente scolastica dell'istituto omnicompressivo di Alanno Maria Teresa Marsili e Matteo Monaco, presidente fiera dell'agricoltura di Alanno nonché ex alunno dell'istituto che insomma può testare con mano e può riferire della scuola che ha frequentato e dell'importanza di questa scuola della formazione che li ha dato. Venite dunque alla fiera, ci sono tanti momenti tra convegni, ci sono spazi espositivi, 100 espositori mi diceva il presidente Pocanzi, dunque lo ricordo ancora una volta, 6, 7, 8 ottobre 2023, noi naturalmente come Rete8 seguiremo l'evento. Allora grazie a tutti voi, grazie ai nostri telespettatori, a tutti e un buon proseguimento. Arrivederci.